Un prodotto molto utile, soprattutto nella stagione estiva, dove si va a sudare di più, ci sono più macchie di aloni, soprattutto negli indumenti, è il lavaverde. Lavaverde pretrattante, disponibile in confessione da un litro oppure anche nel nebulizzatore da 500 ml. Si può acquistare anche da litro e poi ricaricare direttamente a casa. Vi ricordo che il lavaverde è una linea di detersivi alla spina, ecologici, biodegradabili, ricaricabili, infinite volte. Per quanto riguarda la bottiglia, dunque c'è anche un risparmio per quanto riguarda la plastica. Dermatologicamente testati i poliogenici. Il lavaverde pretrattante ha una molecola cattura odori, dunque si può nebulizzare su tutti i tessuti, su tutti gli indumenti, ma anche gli ambienti, che sia la pattumiera, che sia anche il cistone della biancheria prima di lavarla, oppure direttamente per mantenere le fibre elastiche di tutti gli indumenti, dai più dedicati ai capi tecnici sia sportivi che da lavoro, ma anche per le fibre sintetiche o gli indumenti intimi. E anche sui materassi, in macchina, sulle cucie degli animali per evitare cattivi odori. Si nebulizza, si lascia agire anche un paio di ore dove c'è da ammorbidire la macchia, mentre sui materassi e in macchina, ad esempio, si lascia asciugare nel giro di un paio di minuti, si asciuga rapidamente comunque.